in questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente integralmente disponibile sull'attuale sull'attuale però vabbè alberto di astro la ricerca scientifica si intreccia con la divulgazione ha pubblicato oltre 400 articoli su riviste internazionali e se libri con oltre del frattaglia della nascenza è possibile applicare l'indagine dell'infinitesimo per lo studio e la soluzione di problemi sociali diciamo parto dalla fine dicendo che chiunque di noi chiunque ricercatore o ricercatrice faccia delle ricerche offre alla società della conoscenza della conoscenza e cerca di offrire alla società anche un altro aspetto quello che riguarda il dubbio perché la ricercatrice ricercatore studia qualche cosa acquisisce conoscenza ma appena ha capito qualcosa butta la palla più avanti per verificare effettivamente se si tratta se proprio di quello no ora l'impatto diciamo strettamente sociale ma c'è proprio nella comprensione dei meccanismi di funzionamento del dna è quella che noi chiamiamo quando le persone mettono a confronto gli umanoidi robot e gli umani e alcuni cercano di innescare delle paure del tipo ai robot prevarranno sugli umani e gli algoritmi ci governano la vita intanto si dimenticano che robot e algoritmi li hanno fatti degli umani e la cosa però che si dimenticano è che gli umani sono dotati di una cosa che è un po complicata da regalare a un umanoide o un algoritmo che è data dall'imprevedibile biochimica degli umani cioè quando tu vedi una scena dove c'è una persona che si butta da uno scoglio in mare per salvare uno sconosciuto diciamo questo altro problema però le persone hanno capito che quel lavoro di ricerca che si fa nei laboratori quella conoscenza che si acquisisce faticosamente perché per la ricerca e per lo studio non ci sono scorciatoie il bignami lo puoi usare dopo che conosci bene la divina commedia poi vai rivedere sul bignami delle cose ma se pensi di usarlo per capire quello che ha scritto Dante sei sulla strada sbagliata ecco tutta questa conoscenza è quella che però esce anche nel momento in cui serve guarda è incredibile no è come la faccenda del dna è come la faccenda di questa di questo dna che è compattato lì dentro si apre una piccola sliding door e ci sono le informazioni per fare quello che serve in quel momento quindi è un percorso della divulgazione di portare qualche cosa alla società è comunque complicato si può essere travisati d'altronde quante persone hanno avuto in mente hanno delle idee fantastiche cercano di portarle e finché qualcuno non capisce le cose non vanno avanti però certo e lei ha detto una cosa fondamentale il dubbio la cultura dovrebbe insinuare il dubbio soltanto quello allora lì forse il dubbio perché il dubbio ci fa pensare non perché c'è il valore positivo del dubbio sta nello spingere le persone a ragionare ancora di più su quello che hanno davanti certo certo fantastico giuliana cuneazze utilizza tutti i medi artistici dal video dalla video installazione alla scultura dalla tecnologia che agisce con la pittura nel 2020 ha terminato il film 3d i cercatori di luce in cui ha coinvolto danzatori e performance oltre alla grande attrice spagnola angela molina di aspro un grande divulgatore scientifico utilizza il linguaggio universale delle arti come strumento narrativo per cuneaz l'opera invece è un luogo di ricerca ci parla del film i cercatori di luce e quale contributo offre alla società il suo lavoro allora permette che sono d'accordo con quello che diceva appunto alberto secondo me anche secondo me l'artista e lo scienziato hanno molto in comune intanto sono mossi da un desiderio di scoprire che c'è proprio di porta a questa ricerca continua non sono mai sì il cercatore di luce diciamo che è un grande affresco legato alla ricerca e poi tocca diversi aspetti dell'attualità appunto parla di energia di come di collaborazione tra tra gli individui per cercare in qualche modo di arrivare ad un ad un mondo sostenibile di entrare in comunione diciamo con un altro tema che approfondisco nel lavoro è quello della diversità quindi ci sono tante tante figure tanti personaggi ognuno collabora dando un po di sé sono tutti molto differenti però lavorano tutti in un clima di solidarietà di tranquilli di serenità per raggiungere questa questa ricerca appunto di luce che poi è una grande e un altro tema affrontato è quella del lavoro come passione il lavoro come necessità per per la vita il lavoro come come situazione positiva io avevo fatto in precedenza ho lavorato tanto sui disastri ambientali e insomma anche con delle denunce rispetto a quanto stava sta succedendo però questo è stato invece un lavoro che ma fa credo che sia una visione a partecipazione no questo questo desiderio di di contare anche questo riconoscere che non è tutto negativo che ci sono anche tante persone e tanti tante volontà che sono molto utili e che sono solidari l'arte di giuliana spinge come ha detto come ha detto lei nel suo momento creativo in realtà spinge le persone che guardano quelle opere ad abbandonare l'idea di vedere quello che pensavano di vedere e questo è un aspetto importante perché anche quando fai ricerca cerchiamo di sbarazzarci del preconcetto di essere come si dice biased e influenzabili e se no non riusciamo ad andare avanti allora avere qualcuno che riesce in contemporaneamente trovate i dialoghi di arte scienza letteratura storia filosofia architettura cinema economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi piatori e volentieri grazie grazie a tutti